Credem ti propone alcuni preziosi consigli per utilizzare in assoluta sicurezza Business On, l'Internet Banking per la tua impresa. Innanzitutto ti consigliamo di definire una policy aziendale sulla sicurezza informatica, ovvero un documento riassuntivo circa l'utilizzo dei servizi di Internet Banking da parte dei dipendenti scelti. Ricorda di condividere la policy all'interno dell'azienda, illustrandola ai responsabili e a chi è incaricato di svolgere le operazioni telematiche. Dopo aver stabilito coloro che potranno accedere ed utilizzare l'Internet Banking, abilita ciascun utente impostando un corretto profilo di accesso, le autorizzazioni per l'uso degli applicativi e la postazione dedicata. Per essere più sicuri, ti consigliamo di differenziare i profili degli utenti sulla base delle specifiche esigenze operative e di limitare o eliminare i diritti di amministratore sulle singole postazioni. Ridurrai il rischio di installazione di codici pericolosi. Ti ricordiamo, inoltre, di modificare tempestivamente la policy di sicurezza e gli accessi ai servizi di Internet Banking ogni volta che un utente non dovrà più accedere al servizio, per esempio se ha cambiato ruolo aziendale. Ti invitiamo quindi a svolgere periodicamente corsi di formazione interna ed iniziative sulla sicurezza informatica. Aiuterai i tuoi dipendenti a conoscere le buone norme da seguire per aumentare la sicurezza all'interno dell'azienda. Un'altra buona abitudine che ti suggeriamo di introdurre è il controllo giornaliero delle movimentazioni bancarie effettuate, così come quella di avere un metodo preciso per una corretta gestione delle password di accesso ai servizi di Internet Banking. Aggiorna spesso le tue password. Puoi farlo in autonomia o seguendo una procedura definita dalla banca. E ricorda, la password dovrà rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla banca. Infine, effettua periodicamente un controllo antivirus delle postazioni degli utenti che possono accedere all'Internet Banking. È opportuno svolgere tutti i movimenti bancari da un PC in cui sia la posta elettronica che la navigazione online sono controllate attraverso adeguati e aggiornati software di protezione. Spesso, proprio dalla rete, possono arrivare messaggi che ti invitano a scaricare programmi o documenti potenzialmente pericolosi per il tuo account. Efficiente, chiaro, semplice e soprattutto sicuro. Business on the Credem, l'Internet Banking per la tua impresa.